Trevi ci dà l'occasione proprio per mettere in campo tutte le sinergie e le simbiosi industriali che possiamo attuare per realizzare quella che è la transizione ecologica. Come sappiamo ovviamente il Piano Nazionale Integrato di Energia e Clima rappresenta un momento di temi che dovrebbero essere portati a terra per la realizzazione. Quindi ci sono cinque dimensioni da esplorare, tra cui la decarbonizzazione è un fattore molto importante, l'efficienza energetica, la sicurezza energetica, ma la ricerca e innovazione anche questo gioca un ruolo importante. Tant'è vero che in questo campo ovviamente imprese come Edison si stanno molto orientando proprio per sviluppare delle tecnologie che possono essere utili alla decarbonizzazione e all'aiuto del sistema industriale per mettere in pratica questi obiettivi.